buona mattina buon pomeriggio buona sera e buonanotte per raggiungerete questo video con la descrizione per subito signorine e ben ritrovati ancora su Rainbow Six Siege con i G's comunque siamo in compagnia di crazy ciao a tutti e con infamia che troverete anche in descrizione troverete il link del canale di infamia andate perché fa di cui video un spettacolo proprio una roba un rappettone proprio cosa dici camelo facciamo partire la partita dai vai 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 che adesso facciamo un scioppone un che? un rappettone vabbè farò un dialetto e non ci riesco un cazzo per te colpe di dito se non se è come? io non fischio vero no? meno male e non è ma infatti sono sono quasi contento che non fischio proprio strano ma vero un pochettino di manca mi manca si mi manca un po' una casa la casa la casa in montagna vai 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 di chalet questa è quella dove ho fatto Ace si dove hai fatto Ace ah perché ieri ma hai registrato tu infamia l'Ace di si si l'ho registrato io allora ragazzi cioè dovete andare nel canale di infamia e vedere l'Ace del che ero no ma che canale voi non me lo posso a me mi aiuto di Dio no no ma vai a fanculo che brutto strozzo che sei fagli fare tachanka è qualcosa che non si vede tutti i giorni ma appunto tu sei la prova vivente che chi critica tachanka in realtà sbaglia nel senso che è un grosso errore infatti infatti è una merda ma se lo utilizzi ogni partita a fine sai come usarlo appunto proprio a parte quando ti ho visto che hai risultato l'atrice e tipo stavi seduto in giro l'abbiamo sentito in altrice e Donald Trump per far freschi e non ti direi mi sono lì caduto e stava un po' male vabbè no è stato vinto tutto ovviamente abbiamo di là i connessionati eh che non caricano mai ma ma che WDPG is real Hillary bitch Tompici Tompici non l'ho mai sentita Tompici dai 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 ma ma che taglio un ca**o proprio così è così lei sta vaffanculo ora ora si è davvero andata un po' l'amore la scala la porta la porta mi sono poco che pareliano le aree posto un po' lo capito torrenti della finestra spettacolo che hanno dato che anche con il nuovo aggiornamento hanno ottimizzato il gioco in base di fps intendo qui qui quindi davvero un cazzo ho spaccato la finestra è come non lo so per me vado a mettere il lavoro non mi giro più la mappa ciò cavera vieni a rinforzare per piacere io non l'importo io ma non c'ho i pannelli per rinforzare pareti ma che ma come ma dai metti il video oh c'è gente cornosa qua cornosa si si anche un po' infamina però mi chiedo dentro ah mi chiedo dentro ho paura passano da davanti un po' di porte io oh cazzo occhio ah c'è white e black e black per mi far dove sono è la porta principale ok si stanno spaccando si dove l'ho spaccato per uscito a passare ah è l'ho ok eh è capitato no però fammi no infammi devo interrogarlo eh c'è un drone è uscita eh non vorrei conter mai che ti aprissero là dietro che ero vabbè se scappo qual'è il problema metto guai infammi beh beh eh ma però ma che oh merda ciao del cavolo dove sono tutti qua che cazzo non ho capito è infama giù giù sotto di voi ah sta caricando sono qua nella porta principale eh si ho visto una verifica ma però fa una oddio ma vaffanculo cazzo rip imposta ma scusa ma gli ho tolto solo un terzo di vita ah ma cazzo ero in 25 sono tutti qua comunque io sto aspettando che entri un po' no mi hanno shottato cose ne erano due non ne avevo più visti eh sono tutti lì praticamente si si uno dietro al divano e l'altro vicino alla porta se ci vuoi faccio una cosa si appena entriano sono merda una brutta fine sicuramente vedi un cavolo cammello dove cazzo vai eh mi stanno sparando ho paura io ma usa l'abilità e scendi 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 corri 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 il fatto che c'ho quel cavolo di piatto davanti non vedo bene la porta vedo se riesco a vedere qualcosa con le telecamere allora te lo sposto c'è Thermite che sta spaccando vicino a te bella bella cammello Thermite sulle scale Thermite sulle scale ce l'hai sopra di te eh lo so ma do li spazzo è distratto spazagli eh ma poi mi vede no sto guardando dritto vai 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 sta guardando dritto sta guardando non verso di te ora sta scendendo nooo eh l'ha ammazzato ok sta arrivando lì comunque eccolo 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 è lì era lì puttala vacca c'è lì sopra vai facci il giro vai 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 sali sali entra dentro ma perché l'ha gatto crazy è qua dentro ma è gravo eccolo lì eccolo lì vai così bella lì bella lì c'era un cacchio di vita ok ce l'hai detto vai 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 a vedere ho visto vai crazy sei tutti noi crazy hai crazy bella crazy grandissimo io l'ho sparata a termite cioè dia tipo 20 di vita sì sì ma il caro gli ho detto è lì è lì è lì lui si è girato in quel momento lì no perché ho sentito dei passi provenire da sinistro quindi un attimo uccirà dove vede però non c'era nessuno ma io lo potevo interrogare a quello però ho paura mi ammazzavano perché mi avevate detto erano tutti in sala perciò ho detto ma per diventare erano tutti lì quando mi hanno ammazzato erano le tra le disposte della città usa il mitraglione un capitolo non è meglio fare il pari forte finito il mitraglione se non ho avuto anche il pari fortuna senza ritorno il mitraglione è capito anche il pari alzare il culo ma ma quindi che che cattivario che cattivare io voglio capitolo e ma fortissimo quello non ha rincuolo davvero l'ottanta che vuol dire che ma spasco 3x1080 fa 8x1624 fa 3.240 diviso 8x2 vabbè prosciutto prosciutto ma stai zitto tu è prosciutto io che assumo cosa quello si ok sono giù 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 un garage un solo eccolo là ahahah 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 che strano ma che strano sono più orso metti di sotto la barca mancano due nooo me l'hanno massata che infamma ok presi guarda abbiamo presi tutti i pacchi mi sono hanno ben di te che vede ma bella c'è un problema non non possiamo sondare se hanno messo l'uomo ok mi facciamo c'è tutto capitano l'anze cielo che è capitano ma per l'anze nato contro il muro e vedi se riesce a scegliero spetta sono fai di esserci qualcosa ma spara di bui il dardo della palestra per averci il culto non fa non fa danno ma è aggastico quello infiammata quello incendiale infiammare o che per me mi chiamare ok ciao ben di tenuti diciamo però te lo metto adesso e piangi occhio eh vado vai questo è la pena aprono metti un bel qualcosa fatto dall'impressione che non c'è nessuno quasi ce n'è dove la io vedo da un'altra parte ho scambito una per un aspetto con la granata di dentro l'uomo rimbalzava oh madonna no madonna c'è una volta c'è una volta c'è una volta c'è una volta eh vabbè mi stavo sperando per uno mattino ma assediato era che era è venuto addosso come non lo so perverare a uno sta camperando nella porta aspetta aspettando i diritti pulso è dentro pulso è dentro a destra oh no allora l'ho ucciso ma cosa v'ho fatto ucciderlo ora mi prendi testa nella porticina eh visto la sinistra no quella a destra questo è solo voi due eh eh fate voi due ma Ele c'è l'operatore più forte del gioco in attacco quindi di sicuro allora non dire cazzate vai dietro la motoslitta Ele in fondo in fondo in fondo c'è eh beh l'ha in fondo l'ha in fondo esatto l'ha in fondo in quella porta eh l'hai visto l'hai visto l'hai visto no inclina 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 vai verso destra ho paura che sparano la sua è dietro la porta no ti dovrebbero riuscire no non ci dovrò no famonia eh vai vai è nella stanzina l'ha in fondo eccola va la sinistra la sinistra della stanza è la porta scusa no no ma no non è morta la prova sparai con il infatti allora infatti ma si smoccate no è nella stanzina in fondo è nella stanzina a destra pulsa ma si tirava una bella smoke e entrate molto aggressivi io c'ho la smoke eeeh provo a lanciare una smoke ad entrare eeeh pulsattiva qualcosa no la sentiamo avanti vabbè aspetta eeeh eeeh è a destra lì nella stanzina se ci devi fare nooo eeeh dietro al muro eeeh dietro al muro eeeh l'hai visto l'hai visto eeeh eeeh buttaloci ma davvero eeeh l'era qua non l'avevo visto eeeh l'entri e guardi la porta la dove t'ho detto io prima ma forse si vince ma se ancora è la è la è la si si l'hai sentita si si prova ad entrare un po' è da uscire è nella stanzina se non è è la si è la io sento rumore e si sposta si è la tira al drone tira al drone traiati magari no io lo sento no è la dentro la moto scritta è sto giro telecamera prima cosa perchè ti sta vedendo lo state mettendo crisi la telecamera sopra la porta vedi ah è il tiro quella telecamera no quella non è quella ah beh lo stesso 20 secondi 20 secondi no guarda la porta la porta la porta la porta la porta la sinistra la bravo mi la fissa arriva non andare eccolo sulla sinistra sulla sinistra madonna dai colpi bella ele bella ele ahhh cazzo mi son cagato addosso porca troia ma io ma è infame parche traia io ho tirato la palestra no dopo che mi hanno ammazzato mi sono cagato addosso non mi ha capitato successo cioè dopo due minuti mi ha detto che ho ammazzato uno alla palestra vabbè mi sono cagato addosso parche traia c'ho paura c'ho paura c'ho paura caro perchè tu non mi proteggevi il maledetto che ero morto ecco mi hai lasciato solo ma scusa ma la ci sono tutti no? si sparo si chi è che ma crazy? eh si si arrivo arrivo eh e ancora quattro c'ho di ma io non ho capito me l'ho ucciso a quello con la balestra però vabbè dardo sficesse il dardo sfissiante ve lo sciocco si ho capito ma ero già morto ero già finito con l'effetto ok ragazzi vedete le corazze oh ma non era ferito ma strampe le pulse lo poteva curare tranquillamente vorrà mettere il il posto le botole le botole sopra ok ok sto riportando qua dove c'è il infame c'è la botola qua sono distrutto non so se mettermi qua eh il mio jammer eh scusami vabbè fa niente ce lo ripiazzo c'è no oh madonna bellissimo sto posto così sto qua lì dove mi son messo in bagno sono jammer no no scherzo non capisco dove arrivano da tutte le parti aiuto mettere sono da per tutti eh allora un jammerenda aspetta l che qua ti metto ti metto ma se si infame è spaccato che si è è la mia dal garage ho gemmato qualcosa no ma gemma il garage metti ti hai già fatto ho gemmato la ho gemmato guarda quella porta tu merda oh merda ti piazzo un jammer info ok ok ho paura si perché ho sentito un drone e non mi voglio far sputtare infame di chi è quello scudo laggiù ho messo io quello eh togli attento ok ragazzi mi piace in fondo dove sono? allora uno sta entrando dalla finestra su famiglia non mi fa stare davanti ok che ero ok di dove dimmi infame è un consiglio guarda uno la stanno tutti provando a cosare drone di merda no vabbè attento uno è su uno è su alla bottola eh ero rafferito perchè tu dice non è fatti eh vabbè ho fatto la montana eh vabbè è un po' un casino mi ha fatto sopra torre che lo sbaglio voglia lasciare dovevo nascondermila ho fatto un mio errore ma lascio fare ma come è morto quello la ma come è morto quello la ma anche questi continuano a sbagliare cose scale 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 qualcuno che mi vede no occhio occhio sulle scale sulle scale sulle catamite si termite termite che ero massacralo caro ti voglio cazzo che cazzo hai chiuso le scale nooo cosa ma l'hai preso la ma l'hai pure preso ma non lo prendivo guarda gli colpi si aprivano brava salve vabbè vabbè ragazzi mannaggia a quel cavolo di scudo che potevo prenderlo solo in testa non ci riuscivo non te richieste dove stiamo termite 2 a 1 speriamo di chiuderla sono sicuro si fanno la remontata non mettete quel cavolo di scudo ehm termite ehm chi lo prende termite nessuno andiamo così è di violenza ma prendetelo un termite io c'ho il toucher dai toucher grande crazy bravo credo che le tocca? touch tua touch mia no ma perchè siamo a toucher perchè forse tocca tutto eh ecco ma come vediamo a toucher tocca tutto ma cosa camelo camelo non mi fare rimpiangere il fatto che non c'è just ti prego son giù ok son giù vabbè però come minimo tocca tante cose ma non c'è un telefono touch oddio questo era pessimo mi ha demolito il drone sono triste mi nascondo mi era nascosto a pensare a nascondarmi mi ha visto il tuo drone cazzo perfetto andiamo sotto a sfondare come prima non asportate non asportate il mio drone non toccate il drone di impagna andiamo sotto come prima facciamo il primo così ehm c'è da fare tutto il giro ma aspetta di là andiamo di là sono lento come la morte oh drone telecamera bella che cosa stai cosciente ferma ai tu ci sei ok si eh mi sa che forse faccio prima di te no sono già arrivato io volo aah al mio 3 butto la granata ma non c'è nulla tanto no dovrebbe essere il jammer o no 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 oh prova allora allora fermo vai hai visto? non hai visto oddio mi ha sparato una raggata tipo non mi ha fatto l'animazione di termite non so perché perciò pensavo non ho bruciato nessuno qualcuno che venga con me andiamo andiamo qualcuno spara cioè tu quella balessa sparare il dardo incendiario raggiunto grazie eh la bella cosa stai facendo grazie oh mamma ehm stai facendo un po' ehm grazie ma che cazzo dopo ero ha smocco un po' eh me ne so accorto grazie che sta la gamba uno è giù eh ma che palle ehm no no da qua da qua da qua ma non ce l'ho non ce l'ho al dardo ma andane uno fumogeno così entro la? da giù la porta si così lo blocchi lo fermi non lo fai mai di avanzare vai ah ce n'è uno su fate giù state dentro uno c'è uno cosa? da dubbi oh 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 che brutto ok ah là ci sta Valkyrie sulle scale e Jager dentro la stanzetta a destra a lei l'ho vista l'ho preso in testa e non è morto oh fa culo fa culo cosa 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 eh mi ha ammazzato maledetta Valkyrie è uscita è uscita ahi non c'ho munizioni aiuto eh porca troia vai bello un'altra un'altra lei esce ecco che riserva un'altra ma da errore no ma da errore no c'è 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 eh troppo orientale ma dubito ti ho gioco guarda capimi mi fa eh scusato oddio pensavo che eravico è proprio mio ok uno qua ok è la dentro no non sparai il fumogeno sennò gli dai la possibilità di fuggire ma è dentro qua no dove sto guardando io merda è morto è morto non state tutti i vicini se no vi uccide vai via ci penso ci sto io una fucile a popa si sciolta in un'altra è bella grande la sentire strisciava grande strisciava vinto grandissimo grandissimo che cosa che ha detto la stia ok voleva salame volevo salame palle sono ultimo ho fatto 0 kill ho fatto 5 kill wow sono bella 3 dai non male non male va bene quindi possiamo chiudere qui il video secondo me insomma ma è per me quindi ragazzi io vi invito silenzio caro papecciare vi invito a iscrivervi al gruppo di gis troverete in descrizione logicamente la pagina di facebook dove potrete iscrivervi e far parte di questa community che riunisce tutti questi giocatori chi pro come quelli che avete visto chi meno come me però va bene lo stesso vi ricordo inoltre che in descrizione troverete anche il canale di infamia andate grazie mille ascoltate me ascoltate un cartino andate a iscrivervi che è un soppone proprio veramente quindi ragazzi dovete salutare ciao a tutti ciao prosciutti ciao ecco se qualcuno si chiede se Nistella è quello che mi commenta sempre con prosciutto ecco è lui quindi prendetevi a con lui umiliatelo di tenersi con lui nei commenti che mi va benissimo quindi ragazzi che direi ciao a tutti